hello e miau cari amici bentornati su un altro blog del comico k3 oggi volevo consigliarvi un programma il programma è calibre questo programma permetterà di convertire i formati pdf in e-pub in e-pub come direte no cazzo cazzo niente cazzo allora praticamente e pub è il formato in cui l'ipad legge libri quindi voi non fate altro che scaricare un pdf di qualsiasi libro io per far vedere velocemente come si usa scaricato la biografia di michael jackson ok la trascinate dentro lui sta aggiungendo aggiungete benissimo altro aggiunto fate convertire i libri convertire in vivo individualmente ecco nessun libro selezionato perché non selezionate il libro scusate individualmente praticamente qua potete inserire la copertina dell'album l'autore insomma potete modificare potete modificare a piacimento sia la copertina il titolo eccetera 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 quindi questo programma potete crearvi anche un libro vostro non fate altro che comunque selezionare se volete leggervi in con l'ipad o l'ipod o l'iphone in epub quindi qua selezionate pub e gli date ok niente lui adesso convertirà il libro e ve lo trasformerà praticamente in epub e il risultato finale anche amici è questo vedete questo è il risultato finale se riuscita a vedere però è questo poi chiama il libro caso effetto ecco questo risultato finale praticamente avete tutti i libri non mi dovete più portare milioni di foglie anche per gli universitari chi va a scuola eccetera 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 tutti i libri anche libri di scuola insomma qualsiasi cosa lo convertite con questo programmino molto interessante ve lo portate dietro così 3 milano tutto qua dentro tutto nell'ipad o nell'iphone anche nell'iphone funziona quindi un programma eccezionale mio avviso testato e retestato potete modificare insomma e la studiare questo programmino è molto interessante molto interessante vi ricordo che se volete iscrivetevi pure a facebook questo è il il nostro facebook del comico di k3 praticamente k3 e il comico qui danno notizie riguardante tecnologia apple eccetera 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 trovate anche software da scaricarvi tipo se qualcuno è interessato virtual dj ok eccetera 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 quindi iscrivetevi è oggi piove il comico si fa due marroni così che piove quando piove il comico un po svento però non c'è da preoccuparsi non c'è da preoccuparsi eccezionale allora cari amici calibre non veramente che vi consiglio consiglio a tutti soprattutto chi legge molto chi va in università chi va a scuola che si deve portare mille libri così risolvete tutti i problemi risolvete i problemi perfetto una figata una figata una figata mia una figata una figata perfetto allora che dirvi allora facebook ve l'ho detto a rompire balle ciao e cambiamo l'itinerario in diretta scusate per interruzione bentornati a mia mamma che rompe le balle questo iphone metti la via metti di da no perché adesso vi spiego già vi spiego velocemente allora abbiamo una quella tecnologia non c'entra un cazzo cioè mia mamma e qui e la tecnologia che migliori di chilometri di distanza da qui io praticamente gli ho detto guarda mamma ti consiglio un bel telefono c'è un telefono non bello d'estetico che l'iphone è bello anche d'estetico però è facile da usare un telefono facilissimo cari amici cioè è semplice per tutti quindi ho detto guarda prendi questo vero che ti troverai bene display grande così prendi bene l'ha preso e mi è diventa da matta scarica l'applicazione da sola cioè mi dice guarda questa applicazione cioè studia anche quelle applicazioni in inglese francese c'è una cosa micidiale micidiale scarica la musica c'è fa di tutto c'è una cosa i sostenibili c'è c'è col su pronto mi chiamo mi fa mi dice a a mi scrive con yahoo messenger sono mi chiamo con gli un messaggio mentre in giro c'è una cosa fuori di terra c'è c'è un'ossessione c'è c'è grandissima c'è avanti no è avanti cioè è avanti vabbè comunque per dirvi che comunque l'iphone secondo me è un telefono per tutte le età cioè non c'è per avere un iphone anche perché è il sistema più software sistema operativo che adotta l'iphone è il migliore poi ognuno ha i suoi gusti e per amor di dio però secondo me è il migliore più semplice da usare preferisco 3000 volte questo sistema operativo anche se come voi dite chiuso ok chiuso quello che vuoi ma preferisco che apple controlli le applicazioni e non non incombo a virus o a sorprese piuttosto che avere un sistema operativo aperto è aperto e trovarmi qualche sorpresa vabbè questo poi è un punto di vista opinabile cioè te opinabile a questo mondo che sono opinabile vabbè comunque aprovo la parentesi e l'ho chiusa la lille grandissima benissimo allora erano rimasti l'album è The Adventures of Bobby Ray B.O.B. un album veramente spettacolare molto bello sullo sottosfondo vedete che i simpson la presenza dei simpson so che ti abbasso la presenza dei simpson in questo mio ambiente incombe sempre presente simpson a manetta perché è spettacolare allora vi saluto cari amici al prossimo blog del comic k3 hello e miau ciao cari amici ciao ciao ciao